questo è un pacchettino che mi è arrivato da pezzi di gioia vi lascio il link comunque sotto nell'info box come come il solito e vi faccio vedere cosa mi ha mandato lo apriamo insieme eccolo qui guardate quanto è bello un popazzino un orzietto realizzato da lei è praticamente grigio con i pò a bianchi ai bottoncini qui sulla sulla pancia poi agli occhietti il nasino fatto con colori acrilici credo sotto al suo logo no c'è scritto fatto a mano poi come vedete qui per fare le manine è stato cucito e al fiocchetto fucsia è imbottito quindi molto morbido cucito benissimo sicuramente a macchina non come cuccio io perché non alla macchina e questo è il suo bigliettino quindi pezzi di gioia cucito creativo di meri idee in stoffa per la casa c'è il whatsapp l'email e il sito internet e qui sotto il suo instagram come come già vi ho detto vi lascio tutto sotto nell'info box ringrazio meri adesso metterò subito l'orsettino nella cameretta della bimba e vi faccio vedere il prossimo pacchetto questo è un altro pacchettino viene da lettere di legno un sito internet www.lettere di legno.com e vi faccio vedere l'ho aperto era tutto un pacchettato con il pluriboll per evitare che si rompessero queste sono le lettere ora ve le apro con una mano non riesco ora stop un attimo il video poi ve le faccio vedere ok eccole allora sono queste che ho preso io da 8 centimetri e sono le più piccole c'erano medie da 10 e grandi da 20 mi sembra da 20 sono un mdf come vedete il legno mdf l'ho scelto io le mdf perché piccole quindi small da 8 centimetri in legno mdf venivano 3 euro e 90 o 3 euro 80 luna mentre se prendete legno multistrato vi viene sui 7 euro 80 una cosa del genere perché potete scegliere anche se farlo colorato o meno io ho scelto di lasciarlo così perché lo ripeto lo pitturerò io con i colori con 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 la pittura che ho e e sono abbastanza alte alcuni sono molto molto carine rimangono anche in piedi su un piano come vedete io le ho prese per attaccarle su una parete loro vendono anche il kit per attaccarle sulla parete che praticamente un biadesivo che a voi attaccate dietro la lettera e si ferma su un muro io penso che comunque con un biadesivo buono sì si attaccano lo stesso mi provo a farlo ad attaccarlo con il mio biadesivo e la spedizione mi sembra venga sui 9 euro e 80 una cosa del genere comunque vi lascio il link sotto del sito calcolate che io le ho prese venerdì scorso sabato o sabato sono arrivate oggi che gioiti quindi più o meno una settimana poi dipende ovviamente dai dai tempi e niente penso che vi farò vedere poi una volta pitturate e appese al muro come come vengono un altro pacchettino che viene da manuela con marta ma da marta praticamente una ragazza che realizza cosine fatte a mano su instagram si chiama ma storie di bottoni e lo apriamo insieme vi faccio vedere un segreto che lo aprirò da sola perché con una mano non riesco vi faccio vedere dopo quando apro la scatola vedete è un fiocco vediamo se riesco ad aprirlo senza rovinarlo un po' strovicciato quindi ora mi ha stirato aspettate un attimo lo apro con calma e ve lo faccio vedere una volta che l'ho aperto perché così non riesco ok eccolo qui ragazzi questo è il fiocco praticamente un fiocco tutto rosa con al centro dei cuoricini sul grigio e sul rosa vedete è quello sotto e bianco quindi bianco a righe a quadretti grigio a quadretti rosa tutto grigio tutto rosa e a strisce grigie poi qui ha un fiocchetto quindi in teoria dovrebbe andare in questo modo così e va appeso fuori la porta questo lo realizza lei guardate che carino ovviamente può farlo in qualsiasi colore qualsiasi modello di solito mette anche il nome praticamente con cuoricino e incide il nome a mano però io ho deciso ho deciso di farlo di farlo fare così semplice e neutro è molto bello e ben fatto e molto carino vi lascio come vi ho detto il link della della ragazza del lì il suo instagram e mi sembra che abbia anche facebook ma comunque vi lascio tutti i suoi contatti e magari potete anche regalarlo una futura mamma che sta che deve partorire lo potete portare all'ospedale mi sembra una cosa molto carina e molto originale il tessuto anche molto bello è ben fatto praticamente un altro pacchetto arrivato oggi in questa in questo cartone che vi copro qui un po gli indirizzi vi faccio vedere allora per iniziare vi faccio vedere sono delle scritte in legno praticamente questa è una che stanno anche in piedi come vedete una v due cuoricini uno un po più grande uno un po più piccolo anche questi stanno in piedi messi in questo senso e poi c'è questa bellissima scritta princess questo pacchettino viene da un ragazzo che ho conosciuto su instagram il suo nick scritte 3d lui si chiama simone praticamente lui intaglia il legno a mano con un macchinario ovviamente aspettate ok e lo fa sia sul legno naturale che sul legno multistrato questo quindi il legno naturale che è molto molto più bello secondo me poi comunque potete anche di dipingerlo voi come come desiderate e può fare qualsiasi scritta qualsiasi disegno qualsiasi animale poi ora c'è anche il natale magari potete richiedere non so degli alberi di natale delle renne ecco questi cosini così sono molto carine perché fanno da decorazione e dentro casa sono molto originali io ho deciso i font cioè lui mi ha chiesto se c'era un font che mi piaceva di più ho scelto questo per per la scritta princess che è un diciamo un corsivo un corsivo sì e invece queste questo qua più semplice in grassetto per le lettere singole questa la metterò nella cameretta della bimba insieme ai due pollicini così a fianco e queste invece le metterò in camera da letto sui comodini quindi questo sul comodino il mio compagno e questo sul mio comodino sono le nostre lettere praticamente nostri iniziali io ringrazio ovviamente simone come vi ho detto comunque vi lascio sotto il la sua pagina instagram e anche il suo facebook è sempre lo stesso scritte 3d così se volete contattarlo potete potete farlo i prezzo sono 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 bassissimi sono molto molto buoni e niente ma apriamo il prossimo pacchetto altro pacchettino questa volta arriva dal gufo punto it che è un sito internet dove potete trovare degli accessori diciamo anche dei capitabiliamento personalizzati in questo caso io vi faccio vedere delle cose personalizzate con come le realizzano loro praticamente con con il loro design con le loro scritte con le loro frasi quello che vi mostro quello che mi hanno inviato quindi partiamo da questa t shirt che vi apro un secondino eccola qui questa è una t shirt da adulto è una small da uomo è tutta bianca come vedete scusate se stropicciata con la scritta evolution e praticamente si passa dagli strumenti antichi agli strumenti più moderni fino ad arrivare a ipod la scritta è nero con la scritta on il rosso è molto carina è molto un tessuto leggero cotone tutta bianca e la stampa non è il rilievo cioè nel senso non è di quelle in plastica che poi dopo col tempo lavandola e si levano è proprio fatta fatta bene nel senso è proprio è sulla maglia non so se riuscite a vederla questa qui molto 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 bella io perché dal video sembra giallo qui non è gialla comunque qui è lo posso assicurare forse la luce insomma questa è la t shirt poi mi hanno mandato una zainetto una bustina questa qui bianca con i bordini neri è di quelle che hanno che si stringono qui tirando vedete vi faccio vedere in questo modo a il gufetto come il loro sito internet sopra sopra un libro e sotto c'è scritto è una vita che sto sui libri e non ancora imparato niente vedete questo è il sito il gufetto.com scusate io mi sembra prima detto.it e questa è la bustina molto carina tutta bianca ovviamente e anche questa è ben fatta non è plastificata sopra io le utilizzo molto quando vado a mi viaggio perché sono comodissime non incombrano per niente quindi ve la consiglio molto carina e potete fare far mettere la frase il disegno che volete vi mostro questa una tazza perché di tazze non ne abbiamo mai abbastanza allora la tazza è questa anche lei tutta bianca uno chef un cuoco con il cappellino le pinze con la salsiccia e la parannanza così si chiama a roma la la parannanza insomma per non sporcarsi poi ha scritto qui ho provato a seguire una dieta ma correva troppo veloce carinissima molto simpatica anche carinissime come idee regalo per natale visto che siamo molto vicini e niente come come anche gli altri disegni anche questa è ben fatta tempo fa ne comprai una su internet con il logo della roma insomma non originale e ha durata davvero poco ragazze perché facendo così con le unghie si levava tutto invece guardate questa come ben fatta sto facendo le unghie vedete e non si leva nulla quindi è ottima come io ho detto e questi qui io penso siano delle delle carinissime idee regalo per per natale anche o per semplicemente per compleanni tutto quello che volete perché sono originali le volte le potete personalizzare niente io ringrazio il gufetto punto com vi consiglio di andare a vedere il loro sito e e per oggi per questo video abbiamo terminato ma la prossima